Una mattina sul Po a colpi di pagaia per mettersi alla prova con la disciplina del Dragon Boat. E' l'Open Day organizzato al Circo L'Amici del Fiume di Torino in occasione del Mese della Prevenzione del Tumore al Seno da Dragonette Torino Onlus, l'associazione tutta al femminile che si occupa della riabilitazione psicofisica delle donne operate di cancro al seno. Un'iniziativa, quella dell'Open Day, patrocinata dal Consiglio regionale del Piemonte, che anche quest'anno, attraverso gli stati generali della prevenzione e del benessere, ha dato il suo appoggio all'Aifis Pink, la campagna di sensibilizzazione raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. Il Consiglio regionale ha voluto con più iniziative avvicinarsi al mondo della prevenzione, ma non solo. Abbiamo visto la partecipazione del Consiglio con il Centro di ricerca di Candiolo, ma non si deve solo parlare di prevenzione e di ricerca, come a Candiolo, ma anche del dopo. Ottobre Rosa è un evento nazionale, bisogna andare oltre, bisogna fare in modo tale che tutti i mesi dell'anno siano rosa e ci sia la percezione della sanità sempre più vicina ai cittadini. Con quasi 55.000 nuove diagnosi in un anno, il tumore al seno rappresenta il 30% di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6% dei tumori diagnosticati in Italia. Per questo è necessario ribadire l'importanza della prevenzione dei controlli, grazie anche alle campagne di screening gratuiti che la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro realizza con il sostegno di istituzioni e con la generosità delle donazioni private. Noi vogliamo riprendere il prima possibile quegli screening gratuiti che avevamo attivato prima della pandemia in modo da mettere a disposizione dei cittadini piemontesi la possibilità di fare screening dedicati ai principali tumori in modo che le persone possano venire con consapevolezza a conoscere quelle che sono le patologie tumorali principali e come ci si può difendere da esse.